Benvenuti a Yuscafè, la nostra nuova trasmissione che si occuperà di nuovi temi della nuova giustizia italiana in una chiave informale. Con la bella stagione anche su Antenna Sud scatta l'ora legale. Gennaro Delcore conduce Yuscafè, un talk in cui le tematiche giuridiche incontrano i problemi di ogni giorno. Yuscafè, da lunedì al sabato alle 13.45 su Antenna Sud. Grazie a tutti.